benvenuti o bentornati sul canale io sono Michael oggi partirò per un viaggio per sapere dove andrò e cosa farò nel frattempo iscrivetevi al canale ma in questo breve video vi faccio vedere semplicemente come preparo lo zaino per stare sei giorni lontano da casa questo è tutto ciò che porterò con me vestiti accessori intimo beauty costume da bagno accessori di cui vi lascio il link del video qui in alto e i miei due cubi organizzatori e questo è il mio zaino anche di questo vi lascio il link del video qui in alto ah quasi dimenticavo il passaporto è il mio primo viaggio in cui lo utilizzerò ho fatto anche un video riguardo su come richiederlo vi lascio anche di questo il link qui in alto quindi adesso prepariamo lo zaino iscriviti al canale